buongiorno a tutti io sono margherita la vostra personal trainer del programma io resto a casa con il fitness oggi lavoriamo gli obliqui che fanno parte dei muscoli addominali andiamo a sdraiarci portiamo le mani dietro la nuca separiamo i piedi alla larghezza delle anche e facciamo sempre attenzione in questi esercizi a mantenere il bacino bello piazzato quindi bene appoggiato intensità bassa buttando fuori l'aria andremo a sollevare la spalla verso il ginocchio opposto scendo apri e ritorno bene al centro è uguale dall'altra parte fuori l'aria sollevo la spalla verso il ginocchio opposto scendo e apro dieci in tutto per tre volte intensità media buttando fuori l'aria sollevo la spalla e il ginocchio opposto scendo e apro e uguale dall'altra parte l'idea deve essere quella che il gomito vada a toccare il ginocchio scendo e apro dieci ripetizioni per tre volte intensità alta buttando fuori l'aria sollevo la spalla verso il ginocchio opposto e stendo l'altra gamba in sospensione scendo mi riallineo appoggio bene tutti i due piedi è uguale dall'altra parte spalla verso il ginocchio opposto stendo la gamba scendo e appoggio e mi riallineo dieci ripetizioni per tre volte buona giornata a tutti e io resto a casa con il programma fitness e e e